ciao a tutti oggi è 10 luglio 2023 mi è stato chiesto di far vedere meglio il trapiantatore che mi sono fatto mica perché sia bello perché è inguardabile però alcuni volevano prendere spunto e farselo e magari un po più leggerino d'alluminio eccetera quindi volevo far vedere un po i dettagli e le misure allora il tubo che ho utilizzato io è un tubo che avevo a casa allora tutto materiale di recupero questo qua l'ho portato a casa a lavorare che ad una tettoia tipo un 70 il diametro sarà un due e mezzo un tre di spessore poi è lungo circa un metro quindi diametro 70 lunghezza metro la maniglia l'ho messa circa a 90 ed è un tubo di 35 per 35 sarà spessore 1 1 e mezzo ed è lungo circa 26 l'ho scantonato con con la molla e poi l'ho saldato tutto salato elettrodo malissimo da me e ci sono state fatte diverse modifiche perché all'inizio l'avevo fatto con la molla quindi ci avevo fatto questo ma adesso non serve potete evitare di farlo perché volevo farlo funzionare qua c'era praticamente l'inceneratura della maniglia che con con un tondino andava a spostare aprire chiudere allora veniamo all'altra cosa principale l'altra cosa principale sono i becchi i becchi sono fatti di un tubo che sarà un 80 per 80 un tubo quadrato sarà spessore questo qua sarà un 3 circa è stato tagliato sempre con la mola scantonato qua è stato modificato è stato tagliato qui poi piegato poi risaldato poi c'è stato fatto un foro e saldato un buloncino al tubo se si riesce a vedere è tutto incenerato e poi con dei piattini sono state fatte le due cerniere adesso lo giro speriamo che non si cappotti niente questa qua è il dettaglio della cerniera sono inguardabili lo so l'ho fatte io si possono fare molto meglio ma era giusto per darvi l'idea l'importante che ci sia l'inceneratura mobile qua e qui perché altrimenti la prima l'avevo fatta fissa e non girava quindi deve essere mobile ho fatto un bellissimo perno che non è niente altro che un bullone con un foro e un chiodo e perché è smontabile questo qua un piattino di recupero a cui ho saldato una boccola sempre ad elettrodo e quindi la punta inceneratura le due cerniere spero che si vedano bene il tubo apre chiude questo è il movimento che fa apre sembra il becco di un uccello e chiude come vedete il cilindro che comanda tutto poi qua ho messo un bullone sarà un m credo che sia un m10 bullone del 10 poi ho fatto con del materia di recupero un pezzo di una metri trebbia vecchio tipo una tipo una u dove ho fatto diversi fori per regolare questo è il regolatore di profondità e fa sia del regolatore di profondità in base lo regoliamo in base ai fori e fa sia regolatore sulla fila in base allo spessore del tubo che dalla larghezza del tubo di metto due misure così indicative questo questo qua è 23 per 4 i becchi sono d'ottanta questo qua un circa un 35 di altezza largo 25 questi qua sono esagerate perché un piatto di 30 per sala 10 un 30 per 10 di ferro che lungo circa 23 con la sua boccola saldata qua che un tubo eccetera e questa è la parte sotto poi alla cilindro a una corsa esagerata però io l'ho acquistato lavorare questo qua un 50 corsa 150 dovrebbe essere credo non mi ricordo se si dovrebbe essere un 150 di corsa un 125 adesso non mi ricordo alla sua cerniera qui zincata dentro c'è una barra filettata con due dadi che lunga 180 mm 18 cm incernierata così con la sua un'altra boccola dentro in modo da da essere mobile aprire e chiudere è tutto mobile perché così non si può impuntare e poi questo messo una boccola che serve da battuta perché così quando torna su apre fino a un certo punto che è questo poi in base all'apertura volete fare potete farci una boccola o la cosa giusta sarebbe beccare un cilindro della corsa giusta così evitate di far tutto sto sto aggeggio qua però io l'ho fatto con roba che c'avevo questa quella boccola che avevo che ho forato un pezzo di scarto di plastica questo incernierato qua è alto circa 90 mm 9 cm sarà un m10 questo circa con la sua bella cerniera posteriore che è tutto ammovibile poi c'è i suoi regolatori di flusso in base a farlo andare più o meno forte poi è un doppio effetto cilindro e andiamo questa valvola di comando qui che ho acquistato sempre a lavorare dove lavoro e questa qua della pneumax è una cinque vie questa qua è il corpo d'alluminio e c'è la leva leva rullo in pratica come funziona qua entra l'aria la canna dell'aria del compressore quali due silenziatori che scaricano in base se schiaccio lui apre quando mollo chiude quindi metto giù dopo comunque trovate il video nel canale di l'utilizzo magari ne farò altre adesso quando lo utilizzo metro metto dentro del becco quando schiaccio quando tiro su schiaccio lui apre la piantina scende e mollo chiude questo è il tubo questo quale avevo fatto per metterci le piantine ma non serve niente se dovete rifarlo consiglio di fare due maniglie così io adesso sto lo prendo qui quando lo uso però si può utilizzare direttamente con due maniglie perché è comodo io ho fatto tutto di ferro per poterlo saldare bello robusto se avete dei sassi ma se lo fate d'alluminio riuscite a farlo imbulonato eccetera probabilmente è molto più leggero più comodo si può fare a molla principalmente lo fanno molla questo però io me lo sono fatto pneumatico perché tanto l'orto vicino a casa qui ho spazio per la corrente con i pannelli fotovoltaici quindi non la pago e poi è molto comodo cioè si fa meno fatica la fatica è solamente nel metterlo piantarlo nel terreno poi apre chiude direttamente lava il cilindro se no altrimenti a fine giornata secondo me a continuare a fare questo movimento dopo un po uno si stanca però io non l'ho mai usato forse bisogna calibrare un po la molla eccetera io vi ho fatto vedere un po quello che mi sono fatto io non ho mai usato l'altro quello manuale quindi non so che se vi possa interessare con opinioni io mi trovo bene con questo con la veronica mettiamo giù anche 400 piantine un pomeriggio cipolle io lo uso principalmente cipolle insalate i cavoli quando sono le piantine piccole perché chiaramente il diametro di 70 devono essere devono essere un po piccole piantino se no dopo non passano quindi insalate porri cipolle radicchio sì per cui per queste cose principalmente comunque la resa ve lo assicuro io che garantita l'unica cosa è un po pesante da da manovrare però è bello robusto e mi trovo bene volevo solo darvi un po di misure se qualcuno se lo vuole copiare e se poi riesce a farlo migliorarlo mi raccomando postati video così li guardiamo tutti e miglioriamo anche i nostri va bene se avete qualcosa da chiedere o qualche informazione che non vi è chiara scrivete pure o sotto nei commenti o scrivetevi al nostro gruppo di telegram dove possiamo scambiarci opinioni parere sapere per per migliorarci a vicenda vi ringrazio per per aver visto questo video e alla prossima grazie mille ciao a tutti ciao ciao